Non è ancora nota invece la location che ospiterà Matteo Renzi, in città allo stesso giorno alle 18. Come annunciato, il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Bologna la mattina del 19 luglio per portare avanti la raccolta firme sulla riforma della giustizia, nei gazebo allestiti dal carroccio in via Ugo Bassi. Il segretario, in una precedente dichiarazione, aveva assicurato, sarò in città lunedì 19 luglio, con gioia col candidato sindaco e per raccogliere firme per il referendum sulla giustizia, sebbene non sia ancora stato ufficializzato un nome gradito a tutta la coalizione di centro-destra. Parte anche la campagna elettorale di Fratelli d'Italia con i primi tre banchetti, da domani 17 luglio, dalle 10 alle 12.30 in piazza al Drovan di Angolo via San Vitale, dalle 17 alle 19 in via Farini Angolo d'Azeglio e al Mercato delle Erbe. Non è ancora nota invece la location che ospiterà Matteo Renzi, in città allo stesso giorno alle 18 per presentare il suo ultimo libro controcorrente. Responsabilità diretta dei magistrati Secondo la legge attualmente in vigore, chi oggi è vittima di un errore giudiziario può chimare in causa lo Stato che poi, entro due anni dal risarcimento, ha l'obbligo di rivalersi nei confronti dello stesso magistrato nel caso di diniego di giustizia, qualora si ravvisi una violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea o se viene accertato che il travisamento del fattor delle prove siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. L'obiettivo del referendum è invece permettere al cittadino di poter chiamare in giudizio direttamente il magistrato. Riforma della custodia cautelare L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Ciò comporta il divieto di anticipare la pena, a meno che non si renda necessario disporre le cosiddette misure cautelari. La carcerazione preventiva deve, o dovrebbe, essere motivata da specifiche esigenze cautelari, pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Nel referendum si propone di limitare la possibilità di ricorrere al carcere prima di una sentenza definitiva. Nel referendum si propone di limitare la possibilità di ricorrere al carcere. Nel referendum si propone di limitare la possibilità di ricorrere al carcere.